E ciao a tutti ragazzi bentornati su Shark Game Oggi Oggi scontro epico Vogliamo contro i titani Riuscirà Hercules a liberare tutti? Lo scopriremo In questa puntata Forza Hercules Tocca a te Dai dai La spada fulmine Non gli importa Mi arrostisco tutti per bene No Ho perso la spada fulmine Dai Dai Hercule Eh Hercule Sì, 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 sì. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Vai. 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 E ce l'ho tutte ragazzi. E vai. Tutte le lettere. Ciao papi. Sono arrivato a liberarti. Ragazzi, noi ci vediamo nella prossima parte di Hercules. Da Shark è tutto. Da Shark è tutto. Ciao a tutti ragazzi. Sì, ottimo lavoro piccolo. Mi piace. Entrerai nella leggenda. No. 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 No.